buon ciao a you benvenuti dal vostro nonno della rete nella seconda parte di nomi cose città nerd versione nerd siamo ben sei abbiamo raggruppato un po di brutta gente in giro per la città allora giusto oppure per i nuovi anche diciamo un attimo le regole del gioco ma quelle basi rari di nove cose città si andrà a prendere una letra si trova a scrivere l'iniziale anche delle categorie che abbiamo tutti quanti uguali personaggi anime fumetti o film il nome si raggiungiamo cose qualsiasi cosa che non sia nomi d'arte pure ai personaggi nei film non ci sono cognomi per forza ok cose che non siano frutti parti del corpo una cosa un oggetto fumetti o anime il nome di un qualsiasi fumetto cartone animato se inteso anime perciò anche per dire al di ogni saga vale come saga ovviamente non si può ripetere anche l'hamega ki zero Harry Potter Harry Potter scrive le due torri no quella è insieme a me la camera segrete eccetera eccetera giochi sono qualsiasi tipo di gioco dal videogame ai giochi facciamo da bambino ai giochi di carte o giochi di società va bene si canzoni canzoni italiane canzoni termine italiane vipo persone esistenti famose totale e punteggio di totale mentre con le voli iniziamo da una new entry e prendi una lettera che non esiste il gioco iniziamo da iniziamo andiamo vero se possiamo 321 via un minuto e mezzo ragazzi 21 tutti con l'impegnazza ma io mi hanno messo niente io io ti c'è la cosa che comunque tutti per la faccio vedere perché per gli occhi mi osci gli altri gli altri gli altri gli usi giochi lo sigo dice le ginoina cos'è niente detto niente non so se yogurt ecco la inizia tecnicamente no perché un cibo lo yogurt per gli acculti ma non è una cosa così io ho dato da vero perché ci sono poti 0 bui 5 come ti ho anima stessa cosa io tu gli altri niente bene la sua mazza che può film ho io ho messo il livello come con mezzo io ho detto niente io ho detto niente tu yes yes tu yes yes quindi 5 che è una canzone no 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 le canzioni italiane dice no io ho messo il video dei muri e il figlio io ho messo come giochi io ho accorto io ho accorto io ho accorto canzoni italiane io ho messo io vado quella dei flimstone si è la canzone italiana la versione italiana no ma si chiama puoi parlare di che è la canzone dei flimstone verso che dice chiamata certo con la canzone che io sappia poi sarebbe se me la dependo va bene no vabbè ma non esiste come canso cioè è una sigla non è una canzone creata si è ovvio però non è una canzone che è uscita come come canzone singola capito in cd è una sigla che cosa è fatto cambiando il sostegno perché quale soluzione che stai facendo seguitura è uscita sia come singolo come canzone che era usata per fare una sigla e quindi non va però non vogliono le sigla canzoni yoshi è una canzone di una sensazione e quindi io vado a voto non c'è sopporti ora siamo tutti zero non ho fatto le canzoni e se io vado a vado non va bene è no perché una sigla se la sigla esce anche come canzone come canzone come singolo come era una canzone di un canzone tecnicamente se tu la cerchi se tu la cerchi se tu la cerchi no no l'ho cercato riguarda la rapa dance ma via farla pazza non l'euro quando la roma sopra come un attore come vogliamo allora intanto si stia con la i primo iana e secondo e il nome il cognome si bevive poi cazzo grande regolari forse sbagliato che chi è convinto il cognome a nome d'arte io ho messo gli anni signorino nome d'arte e nome d'arte è il completo nome d'arte ansia del young si è maglia chiama non esiste la yamaha motor o quello che le producce non esiste ma che riproduce una marca chiama corporation e da chiedere cosi chiamano le romani di amata busciki gaisha cioè ragazzi e non c'è esiste a casa del nome ma si riconosce con il rapporto e vabbè ma scusami e non lo so si no 455 60 65 15 io parlando io guarda gli ansi però io sei un posto che non posso stare la gamba no 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 vengono parte di fatto che copiare ma poi non vai avanti ma se vai indietro sono e c'è ripensato dopo scherzo bravissima peppe vai ma prendi un'altra la z quasi in modo z iniziamo da l che questa volta la vedo molto più impegnata zoro 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 e io vediamo zoro zoro altra ho fatto zoro no tu ok e diciamo perché così avrà le coppie segnale 5 ormai c'è zona bianca c'è forte io zitto la formica 0 0 di chi? di network for christmas ok di zucco eh di zucco no no con gris e poi su quale film abbiamo messo? avevo detto ok 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 eh per quanto però ho caduto? ho messo azzurro poi ho detto ok c'è più difficile hai ragione il film cos'è? zaino lei cos'è? zanzai zoccolo zampogna non ti voglio messare niente zoccolo zoccolo zolletta zolletta zio non fiazzetta ho messo azzurro io e c'è poi i due cibo fumetti anime niente niente zettman z eh sì ha santificato però e tu? zettman eh che vuoi avere? eh che dove metti? z z z z zanna piazza zanna piazza è un film eh sì vabbè io ho messo zeta che è il film sul rap zeta con clementino zeta come si chiama il rap? oh poi si chiama il rap? eh quello non lo voglio fortissimo come rapper con una storia dico come si chiama lui? eh non lo wing è il fame z a io invece ho fatto zanna bianca che dove ho stato come numero l'idea sì non mi vuole senza l'azienda perché lo schiede tutto la canzone sarò dei credito dopo peccato paura mentre zenga niente niente io ho messo zanino 5 punti mi sono mangiato 5 punti gratis 10 20 35 schifo 20 65 chi pesca aveva fatto del 15 ma un 15 ma l'età è raga l'età c'è vicino le z però le canzoni si potevano mettere pure in inglese non sono d'accordo siamo siamo in italia ho capito facendo anime e fumetti in italia italiani se lo ce l'è ma c'è in italia che c'è ma che è s s vai s sanpei finito e io dicendolo no io ho fatto fanci lo posso posso dire io sono sono arrivati non ci credo che è così scritto sta cazzo si è scritto tutto 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 sasso già cosa di sedia spadino e stronzo che cosa è che vero quello che è cosa strada chiaramente tu sarai c'è temerò per 7 che stavano in ordine me l'ho ancora ok fumetti o anime niente c'è mangi che cresce io non ho messo a me è riuscito oggi sarà troppo facile summer time rendering si vede che lo voleva cometeria film si no si è una scrittura dottore senza filtro senza filtro articolo 31 soft party film ideali dell'avventura scopone star wars ci sono molti giochi canzoni italiane la solitudine la solitudine la solitudine allora lo facciamo l'altra volta di nuovo no 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 come no dove che non avevo fatto un'altra cosa uguale ho fatto un esempio che questo qua non è se io se lei era un piccolo grande amore non è un'altra canzone mamma mia ma nessuno mi so la canzone no se io se io sono senza parola ok senza parola dico come anche tu hai messo senza parola no io io stefano scampo alla fine non dico adesso è stato un'altra riporta male ha fatto un amico io l'ho messo solo perché sei dimesso sarri io mi si sono ora se non è un gruppo non è un vip è un gruppo 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 è una singola persona va bene non l'abbiamo specificato non l'abbiamo specificato non l'abbiamo specificato non l'abbiamo specificato è specificatelo prima è giugno perché se è questo devo scrivere se stiamo fatta agosto esatto è e sono verificati citi però grazie grazie cd 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 non è possibile si usa questa la cima io non ho messo che cosa pensare a quegli altri nomi personaggi di che cosa lo di chi è io parla pensi si sono scambi si sono cinque cose che cosa come il coccodrillo il caldo il caldo è una cosa che viene comunque la parte del corcio avviene ecco una forma di combattisco 5 siamo all'italiano però andiamo firmo come ti ho detto però c'è anche con il barbaro io ho fatto ce l'eventolo che cambiano le benci italiani e italia la sigla che non lo so però come cos'è messo serie di animazione io conad quindi è conad che è cambiato conad è ragazzino conan è il barbolo con il 10 10 ma il barbolo il documento che hanno usato il trattore di fomento con aveva può metterli 5 perché avete fatto la sacrosa praticamente perché 5 perché non valgono i gruppi non valgono le serie ok lo posso di là no no ecco non è che non è che non è che il mestraneo il barbolo è che però non è che però sul gioco mi sa che ti caramolo con la c non è cosa faccio il figlio non è non c'è niente tu che vada gioco tu garazzo tu conan ex il gioco con la questi gioco bravo bravo già campano campano il cuore ragazzo giocato a campano canzoni italiane nessuno c'è la rocello che sono per controlla esiste certe canzone programma televisivo ma mette la musica non è una canzone cento passi no e carosello come la risolta canzone c'è la sigla del carosello ma abbiamo detto che prima non andava bene se non va bene non è sì ma questo dice vuole cose strane sigla iniziale la sigla iniziale del carosello non vale vipo sergio cammariere una cocata ce l'entravo cocco in giocatura io mi so il conte ma conte è l'allenatore non l'africano 5 50 25 60 io sono uno veramente c'è alla C25 che cavolo è successo è stata colpa del caldo comunque la foto di G1 mi ha proprio fatto perdere perché sì perché la voce c'è per una cazzata già allora che lettera questa distruggente che cosa si cercava la lettera ma non si può giocare così però perché però prima se le legge rimane a guardare la G la G di da Madoso G si 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 finito finito il tempo e non ha messo la cazzola non resiste allora novi e c'è io c'è io nessuno eh non ho messo niente allora non ho messo niente chiedere personaggi nessuno nessuno oh guarda noi ci sono chi è che sono gatti 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 cagli gatti 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 che freddo gatti 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 va bene chi è che ha fatto fumetti l'anime no niente tu ghost rider ghost rider questo è gold ma poi le one piece gold lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo che ho scelto che ho scritto gold non avevo io lo sapevo che vedi dove gunda guru gigant che è guru 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 ma ti vuole della maglia facendo eh a condarsi anni 90 film guerra frattitani scontro frattitani no scontro frattitani c'è anche guerra frattitani no è scontro frattitani c'è è vero no c'è la furia di titani eh che c'è scontro frattitani frattitani esiste metti guerra e pace verrà che non esiste guarda frattitani scontro frattitani scontro frattitani scontro frattitani quindi si sembra lo stesso si è zero tu che hai fatto? quindi fa pure tu sei cos'era 35 già burrasca veramente mi ha aspettato non ho ancora no grisannato io non so se che gioco sbagliare che mi sembra che c'è una serie non vale che so che l'ho fatto io buono ho detto il gioco lo stai lo stai però bravi androle canzoni tagliate ma che la gira non è un gioco girando ai cosi giocava girando girando dire girare tu ghost record no no ghost record wildlands è un gioco anzi ghost record aspetta non è neanche quello fa parte della saga di ghost record non è ghost record ghost record no è Tom Clancy's ghost record è Tom Clancy's ghost record la ragazza cazzo sto buttato in una no 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 ghost record io ho messo gommi ghost record ghost record ma sono grazie a comparenza sto nel mi 10 perché c'è su Tom Clancy's sono italiane gente di mare io ho messo giocare non esiste sicuramente non mi sa io ho messo giocare lo so lo so erano tantissimi vede con la giua gente di mare che ne so girasole come girasole è un brano di biagentonacci giocare sì ma non lo sapevi no no vale vale c'è c'è ma con non è con la è il tos con la con la con la non è c'è che c'è mi ricordavo così c'è Tom Clancy's ma poi come si scrive perché mi devi a scrivere le parole perché non esiste ma non esiste Giampra il che c'è il che c'è c'è non so il cognome di chi si fa gatto è Tom Clancy Giorgia non lo sai Giorgia costi di te comunque con l'altro drogato uno, uno, c'è, fredda 10, 20, 30, 40, 60 c'era ultime due lettere non pensavo in 10, 20, 30 30 lo sarebbe sono si rialata perché è stato un lavoro comunque comunque si può dire che se non è solo qui 10 del suo corpo c'è però poi guarda si è finito manca la penultima non abbiamo valutato il fatto se qualcuno ha scritto come unico ma unico solo se ha scritto tutta la categoria tutti quasi sempre scrive io solo non ho scritto ora però di quest'anno prima con la c le canzoni lo siete solo io 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 non ho scritto la canzone la scritta fase le canzoni non ho scritto niente la via che non basta di latina di domandos personaggi dai dai giangolo e la direi cose tradizionali hanno scritto tutti dato problemi c'è in periodo sono scrive c'è dato con due nomi strumenti o anime da leggendo come fa stava di là le possibili salida la vista qua dove one piece door one piece è sempre one piece d'orso a gami d'ora no ma non c'è la villa ragazzi ma maggiore di città come 5 e lo stai di lago tu che ne sono paga dove mi raggiungo e mandori secondo me la scrittura perché cancellato la serie tv un film l'ho messo comunque la serie tv da io dovrebbe essere un film che si dice no c'è la serie c'è che c'è che il film a spesa e ho messo tu come gioco chi ha detto della fine tu mi ha messo il dettaglio pure io alla fine un gioco di zombie ma il film qual è per c'è il film per cazzo io ho messo a chi stiamo e figi giallo e si giochi giochi doom io ho messo dati ma è un gioco giocato a casino i dati dei freddico vabbè sinceramente e anche se come si può dire è semplice però i dati non gioco si gioca a casa la sera si gioca blackjack poche cosa giochi alla vista troppo faccia detto non lo mettono come giochi doom 155 mi ha messo del touchland canzoni italiane domani 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 sì io ho capito ma non è ben visto niente io ho messo darmi tre parole no è tre parole è vero è non lo so non lo so alelia rossi tre parole 1999 no era uscito scritto da un po' che ho uscito delle parole va bene per prendermi il culo va bene va bene che grande non ti ricordo io ho messo dita dita l'ho messo niente a ridere ma do è questo non vedeva a piangere è meglio a piangere cinquante l'ultima lettera per l'ultima ha fatto parla c'è stato bravo inizia a guarda la città e sai 65 40 45 60 40 l può mettere aspettate metto il tempo la miseria ma troppo poco tempo posso farlo come jolly personaggi è una traduzione si 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 ma è che di far affetto si aspettavano mi sono una luna luna una la venda io ritengo che l'unica soluzione cosa io letto a castello lavanda lume di candeli ma non credi l'attacco dei giganti è vero tutti con la LH però ti vuoi che tu vuoi che cosa e qua suggerisci e vuoi le attacco di la LH la leggenda di Aslan ma sono tutti con la LH ma sono tutti con la LH lochi io ho messo lightning ma amato quello che ti ho portato io un attimo se sento niente io ho risposto la voce io sono rimasto il bambino sulla voce la leggenda del papà la conosco solo io questo non so come si chiamava quello di ah pure si chiamava quello di questo è un codio che guarda così guarda così guarda così non so se ne fa bene è un anime Lyoko Kod chi? io scrivi Lyoko Kod come si scrive? Lyoko con la C con la L Lyoko Kod non so che con la L e scrivi Kod Lyoko Kod come si scrive Lyoko con la C con la L Lyoko con la C Lyoko con la C o con la K con la C con la C e scrivi Lyoko è una serie del B non dire cazzato vaffanculo che non va bene come un'altra non è no ma come cazzo di ricerca ok ok la leggenda degli uomini la leggenda degli uomini bello la mumia le chiamavano trinità e no chiamavano la confidencial la mumia la mumia giochi giochi la pamprella leggo lupus in tabula lupus in tabula sta mettendo le sbaglio a Daniele la canzone non so canzoni italiane la solitudine l'esempio più grande del genere non l'hai messa non l'ho scritta avete scritto la solitudine tutte e due con la S e non l'avete scritto con la L no ragazzi veramente e che caso l'amore si vede e chi è? l'amore si vede l'amore si vede la solitudine no allora non mi ricordo c'è una canzone l'amore si è vero non lo so si si dovrebbe esistere avevo una cosa tipo campo e canto che c'è e' Enrico Niggiotti il brano di Enrico Niggiotti grande Enrico Niggiotti che cazzo sei? E' tipo Perradini Sì che si la conosce l'avete Io volevo scrivere Liga Vue, però me ne è scherzato, perché ho detto, lo posso scrivere come Jolly, io ho scritto, ce l'ha, ciao diretta, le 8, 10, 20, 30, 40, 70, 50, va boh, ecco, va boh, va boh, la vita non possiamo fare il totale. Chi vince paga? Ho fatto 0, 1, abbiamo saputo che avevo vinto, ha vinto, ha vinto Fabio, vinto, 435, è un attimo impossibile, guarda, quello lì ha barato, ho visto tutti i fumetti, quello sa tutto, perché avrà letto, sicuramente, e avrà letto e quindi saprà tutto. Bella ragazzi, vi raccomando, se mi piace questo fa, un altro risultato, quando voglio sapere, no, dite, dite, vai, continuate. Allora, il risultato è stato che ha vinto il nostro fumettaro di fiducia, però ha vinto, perché ha vinto, perché comunque lui, noi vi accorgiamo, lui praticamente ha un auricolare nascosto, e gli stanno suggerendo la situazione, si tranquillizza, potete venire anche voi a farlo. Ok, veniteci a trovare, in via di quadra del giorno 90, fumetti, manga e anime, il gioco da tavolo, Yu-Gi-Oh!, Magic, Vanguard e Pokémon. Cardfight Vanguard! Io ho fatto 3,35, no, io l'ho conto, c'è sempre 100 punti in più, eh, 100 punti in più, 55, 265, io ho fatto 40, 265, vediamo come l'altra volta, quindi abbiamo fatto primo e nonno, secondo e fra, io 265, terzo, 255, quarto, quinto, quinto e sesto, no, io devo contare, che devi contare, ho una roba e tre scatola, cosa avrò fatto 30? Eh, se il brano di nome costituità e poi? Eh, poi cosa? Poi la partita a scacchi, faremo, no, no, poi ci chiamo a te, non lo dico io, grazie mille a tutti ragazzi, iscrivetevi al canale, voglio bene, al prossimo video, bello!